Non t'ho fatto più scrive Il silenzio delle stelle attraverso Maria Teresa G. Rosa Non t'ho fatto più scrive perché non stai bene e così te sei avvilita. Però non devi perché io ci avrebbe ancora un sacco de cose da raccontà e non saprebbe a chi dille se tu non ci sei, capisci? Ci so altri che scrivono ma ancora non so boni e qualche volta scrivono il vero e qualche volta no perché ce vuole tanto, tanto tempo per diventare come te che senti tanti spiriti differenti allora mi prometti di diventare più forte? Il dolore può essere del corpo e dello spirito e fa parte della vita Puro io l'ho avuto quando lo stivaletto mi diventava stretto e mamma mia non c'aveva gli sordi per farmene un altro nuovo o quando mi cascava un dente nonna Grazia lo legava con lo spaghetto e me lo tirava via o quando ci ho avuto il mare di panza e il vomito perché mi ero magnata l'arancia con tutte le scorse ma pure adesso soffro qualche volta non col corpo che non ci ho più ma per i sentimenti che ancora provo e cioè c'ho invidia di quelli che sanno tante cose e le capiscono e io no eppuro c'ho l'avvilimento perché me pare che il maestro me trascura e preferisce l'artri eppuro c'ho rabbia e paura quando insieme al maestro vado al piano delle ombre per esercitamme nella consolazione e conversione e si non imparo bene che gli dico a quelli continua commento nel primo dopo morte si riflette sui raggiungimenti avuti in vita e questi raccontano in genere le entità durante le riunioni medianiche non sono quindi dei raggiungimenti avuti nel dopo morte perché ci si evolve solo nel piano fisico e per questo si ha la necessità di reincarnarsi